Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Dunque, opera fantastica in un prorogo e 13 quadri. Questo è il sottotitolo dell'adattamento, della rielaborazione in forma semiscenica del viaggio di G. Mastorna, di Federico Fellini, per la regia di Walter Malosti, le musiche composte e il libretto steso dal maestro Matteo D'Amico, da un'idea, da un'intuizione originale di Valerio Tura e Cinzia Salviori, e per l'interpretazione di Luca Grassi. L'interpretazione del Mastorna, di Luca Grassi, e di tutti i cast naturalmente che sono qui accanto a me. Che cos'è? È innanzitutto una coproduzione, una produzione che ha visto protagonista da una parte il Comune di Rimini, il Teatro Galli, e dall'altra parte il Teatro, invece, Dante Righieri di Ravenna, qui rappresentato dal suo direttore Angelo Nicastro. Ed è la seconda felice, intesa collaborazione tra questi due teatri. Una prima esperienza c'è stata qualche mese fa, in occasione della messa in scena della Lordo, a fine agosto, e il 23, invece, ci sarà appunto il viaggio di G. Mastorna, che si inserisce, questo spettacolo, all'interno di una collana di iniziative che accompagnano l'inaugurazione del Fellini Museum. Fellini Museum, che è stato inaugurato nella sua parte castellana il 19 di agosto, e che si concluderà intorno alla metà di novembre con l'apertura anche del secondo asse, il Palazzo del Fulgore. All'interno di questo programma di eventi che ha accompagnato l'inaugurazione del museo, il teatro ha già ospitato e ospiterà altri spettacoli, oltre a questo. Federico Dei Sogni, che è stato messo in scena qualche giorno fa per la compagnia Corre Camè al Teatro degli Atti, e a novembre, fine novembre, sarà presentato anche il Felliniana della compagnia Artemis Danza. E' quindi un tentativo di realizzare una serie di iniziative e di eventi multidisciplinari, non soltanto cinema, non soltanto libri, come presenteremo, ma anche e soprattutto teatro, nelle sue varie declinazioni, danza, prosa e, come oggi, lirica. Del Mastona, che cosa dirvi velocemente? Il Mastona è il film mai fatto, mai realizzato, più noto, più celebre, più citato e probabilmente anche più adattato, trasposto, della storia del cinema. In questa specialissima classifica, il Mastona precede, da una parte, probabilmente, il Napoleon di Kubrick e, in seconda battuta, il mitico Leningrado di Sergio Leone. Ed è la storia di un uomo che non sa di essere morto fino a un certo punto e, quando lo impara, deve imparare soprattutto ad essere morto. E' quindi un uomo che vive in una regione, in una zona ambigua, in un luogo da dove non si torna, appunto, Mastona, mai si torna, e vive questa condizione di incertezza alla conquista di un al di là che appare, a tutti gli effetti, molto simile al nostro al di qua, solo con qualche incongruenza di più. Io non vado oltre, vi ringrazio dell'attenzione e cedo subito la parola al regista Walter Magosti. Grazie, grazie dell'attenzione. Parli il compositore Matteo D'Amico così introduce i temi musicali, poi dopo io parlo un pochino della parte. Va bene. Dunque, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono contento di essere qui, di nuovo in questa regione che nella mia carriera mi ha portato sempre fortuna. I più navigati tra di voi forse ricorderanno il periodo che ho trascorso come direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, tra il 2000 e il 2002. Poi nel 2004 feci un'altra opera lirica al Teatro Comunale di Modena con il maestro Conaldo Sisillo e insieme a Sandro Cappelletto che si chiamava Lavinia Fuggita. E poi molte altre occasioni, diciamo, minori. Ma comunque sono molto contento di tornare a un titolo operistico dopo una diecina d'anni e forse più in cui non ho avuto occasione di cimentarmi con questo genere che mi è molto caro. Ho scritto otto altre opere liriche di vario genere, natura, dimensione un po' in vari teatri italiani, da Palermo al Maggio Musicale Fiorentino appunto Modena, l'Arena di Verona tante altre sedi, diciamo, prestigiose in Italia. L'idea di questa nuova avventura è dovuta agli amici Valerio Tura e Cinzia Salvioli che devo dire l'hanno perseguita con una tenacia inesauribile hanno avuto quest'idea di ispirarsi a questo lavoro famosissimo io premetto che veramente non lo conoscevo chiedo scusa, l'ho conosciuto in questa circostanza la verità è, lo devo confessare, che io non sono un vero e proprio cinefilo naturalmente, e come tutte le persone normali nella mia vita che ormai è piuttosto lunga, sono andato moltissime volte al cinema però ho visto, direi, la quasi totalità naturalmente dei film di Fellini come qualsiasi persona che si potrebbe definire normale in questo paese si è trovata a fare però non sono un cultore di Fellini non lo sono mai stato, non ne conosco gli aspetti più nascosti o comunque non l'ho approfondito mi sono trovato dunque di fronte a questa proposta e ho letto, quindi ho preso conoscenza con questa che potremmo chiamare, giustamente è una sceneggiatura devo molto in questo incontro all'amicizia e ai consigli e alle spiegazioni di Ermanno Cavazzoni che vorrei qui ringraziare pubblicamente perché è stata una persona di una generosità e di una competenza uniche su questo argomento è stata la persona che appunto ha fatto una pubblicazione della sceneggiatura in forma di narrazione, in forma di testo chiaramente e facilmente leggibile per tutti a quando dopo averne preso conoscenza ho avuto la sensazione che fosse un soggetto estremamente adatto a una trasposizione musicale perché aveva una, direi, naturalezza di sviluppo narrativo una freschezza e una ricchezza di temi, immagini che naturalmente non serviva altro che prenderne atto metterli in fila naturalmente asciugarli un po', metterli in ordine perché la musica, sappiamo tutti, ha delle esigenze di tempi, di quadratura le parole si sviluppano più lentamente per dare spazio all'espressione musicale quindi non si può mettere tutto bisogna fare quello che i francesi chiamano il découpage estrarre l'essenziale e naturalmente anche visto che il lavoro degli autori della sceneggiatura che, come sappiamo, insieme a Fellini furono Zapponi naturalmente adesso non mi vengono tutti e quattro perché non vengono mai Buzzati Pinelli no, Pinelli no Zapponi Buzzati e Rondi Brunello Rondi ecco, i quattro, i magnifici quattro della sceneggiatura quindi c'è stato questo processo in qualche modo di riordinamento della materia ma non assolutamente di stravolgimento anche perché a un certo punto subito avevo cominciato a lavorare ed è entrato giustamente in campo anche Walter Malosti con il quale abbiamo stabilito un po' la distribuzione della materia lui mi ha dato tutti gli interventi insomma la scelta di base essenziale è stata quella di servirsi della presenza di un immaginario Federico Fellini narratore di se stesso, del suo lavoro, della sua idea che quindi conduce l'ascoltatore, lo spettatore attraverso il dipanarsi diciamo, presenta la storia nel suo dipanarsi quindi Walter ha naturalmente curato soprattutto i suoi interventi che lui farà in scena dal punto di vista della scrittura attenendosi poi, come lui stesso vi spiegherà meglio a un'assoluta fedeltà alle parole di Federico Fellini si è deciso con la produzione di impostare la produzione servendosi diciamo di un certo numero di cantanti il più contenuto possibile che si facessero carico in qualche modo soprattutto quattro di loro di alternarsi nei molteplici, molti ruoli che la vicenda prevede perché praticamente voi dovete pensare a questo viaggio di questo protagonista Giuseppe Mastorna che non fa altro che imbattersi in personaggi personaggi che gli ricordano che sono chiaramente della sua vita terrena o personaggi anche nuovi che somigliano a quelli che lui conosce comunque sono tanti, tanti si succedono continuamente e quindi abbiamo immaginato anche di concerto con la produzione una sorta di quartetto vocale che in certi momenti svolge un ruolo di commento svolge anche qua e là piccoli ruoli di coro vero e proprio cioè di insieme di persone che passano i passeggeri dell'aereo i passeggeri della stazione e così via ma soprattutto porta il carico di tutti i vari personaggi che circondano e ruotano intorno al protagonista intorno a Mastorna e intorno anche a diciamo l'unico altro personaggio è il personaggio della Hostess che è un personaggio stabile diciamo che torna continuamente è un'interlocutrice fissa di Mastorna e quindi questi due personaggi più i quattro fanno sei cantanti che sono impegnati sulla scena con un ensemble piuttosto allargato di una ventina di musicisti quindi una piccola orchestra si può definire questo che sarà diretta come sapete dal maestro Jacopo Rivani quindi questa è un po' il quadro generale cosa è venuto fuori? beh innanzitutto è venuta fuori una cosa abbastanza corposa perché la vicenda è lunga è piena di cose come vi ho detto abbiamo dovuto anche smagrirla, snellirla, affinarla quindi è un'opera credo abbastanza abbastanza lunga abbastanza grande nel suo sviluppo e quello che mi ha un po' alzando la testa così una volta finito perché non tutto quello non tutto si può tenere sotto controllo durante la composizione ci sono anche dei momenti dove uno tuffa la testa dentro alle situazioni espressive teatrali e quindi poi c'è sempre un momento in cui uno si rialza e soprattutto alla fine guardando un po' l'esito del lavoro direi che è un'opera un po' curiosa perché il protagonista il nostro Giuseppe Mastorna Luca Grassi poi ci racconterà anche le sue impressioni sta lì sempre continuamente al centro è come una specie di sole intorno al quale ruotano tutte queste vicende e naturalmente la sua parte è molto importante però che io mi ricordi c'è solo due o tre momenti in cui veramente viene fuori con un'aria con delle uscite importanti in cui ha finalmente occasione di dire cosa ne pensa in modo diverso a seconda dei momenti ed è quindi un'opera molto corale molto fatta in cui tutti quanti gli altri personaggi hanno un ruolo molto importante e forse tranne che in un paio di punti dove Mastorna si confronta con la Hostess e ci sono un po' degli approfondimenti psicologici dei momenti di riflessione dei personaggi di scambio di esperienze anche profonde per il resto la maggior parte delle situazioni si svolgono con grande con grande velocità con grande c'è poco spazio per un approfondimento ecco di tutti questi personaggi che noi vediamo sono come delle maschere che compaiono velocemente ti colpiscono colpiscono il povero Mastorna che è sempre un po' travolto dalle situazioni che gli girano intorno e poi vanno via ecco quindi anche in questo senso la musica scorre tocca punge è una musica molto mercuriale io l'ho definita insomma questo è un po' il carattere generale del lavoro io penso di aver detto tutto quello che si può dire prima di una cosa anche perché non l'ho sentita quindi non è che posso proprio dire più di tanto quindi passo la parola a Walter buongiorno a tutte e a tutti allora intanto invece io ho sentito oggi per la prima volta al pianoforte la musica è molto bella i cantanti sono bravissimi quindi siamo già messi in un'ottima strada in realtà invece io conosco questo testo da subito da quando lo pubblicò Bonpiani è un testo che avrei voluto fare per la radio perché ritengo che sia scritto in modo magnifico la questione della paternità adesso citavo Pinelli prima ma non citavo per errore perché in realtà molti hanno collaborato a questa stesura in vari tempi diciamo dal 66 fino a quando Fellini è morto addirittura Tonino Guerra a un certo punto era stato contattato ma ci fu un episodio quasi magico in cui un foglio volò via mentre lavoravano e si incendiò nel cestino per un mozzicone di sigaretta per cui diciamo è stato da sempre un testo accidentato pieno di dolore anche perché Fellini appunto come qualcuno di voi saprà si ammalò gravemente ma davvero non per finta un suo amico tra l'altro lo salvò in ospedale a Roma insomma trovando la diagnosi giusta no vabbè ma insomma che c'entra quello è un film noi facciamo un'opera lirica peraltro forse avrebbe dovuto farlo forse non l'ha voluto farlo perché parlava parlava molto di sé diciamo la sostanza è questa cioè una sorta lui lo chiama una specie di fantasmone questo testo e l'altra definizione che mi piace molto di cui ho parlato prima con i miei colleghi è quella di relitto radioattivo cioè come una sorta di relitto in fondo al mare da cui ogni tanto emergono dei frammenti e tra l'altro Fellini stesso dice che si trovano anche in altri suoi film ed è chiaramente possibile verificarlo ascoltando poi la sceneggiatura letta alta voce ci viene subito in mente la voce della luna i satiri con Casanova Toby Demmit insomma tanti frammenti di quella sceneggiatura sono finiti in altri film di Fellini questo per dire nel mio amore per questo testo perché secondo me Fellini cioè oltre ad essere un grandissimo diciamo ovviamente cineasta e autore cinematografico è anche un grande scrittore io ho fatto insomma quindicina di anni fa un suo testo che si chiama Giulietta tra l'altro quest'anno onoriamo anche i cento anni della nascita di Giulietta Masina che si potrà vedere a Cesena poco prima della ripresa del Mastorna e quindi insomma proprio alla fine di ottobre se qualcuno fosse incuriosito dall'occasione può trovarlo lì e già lì insomma si sente che queste parole di Fellini non sono parole soltanto diciamo appunto di uno scritto tecnico ma insomma ascolterete durante l'opera le parole di Fellini stesso diventare qualcosa di più sono parole musicali sono parole che si possono dire altavoce dall'altra parte lui era un grande affabulatore quindi lo immagino parlare con i produttori di questo lavoro e si sente proprio la sua voce che racconta insomma non è soltanto un materiale tecnico diciamo di nicchia ma è un materiale che secondo me ha anche un suo valore letterario tant'è che appunto avevo pensato di farlo anni fa insomma poi come Valerio sa i diritti non sono una cosa semplice anche per Giulietta ho faticato moltissimo ma insomma adesso questo voglio dire per dire che secondo me si mettono insieme diverse cose poi insomma a un certo punto molti tra cui Fabri insomma che voi conoscete bene aveva pensato che il Mastona potesse diventare qualcosa di musicale insomma ed eccoci qui ovviamente la messa in scena sarà una messa in scena a Scarna ma questo secondo me non sarà a detrimento del lavoro anzi ne metterà in luce in qualche modo la profondità di questa anima diciamo che viaggia in questo suo mondo interiore una sorta di ci sarà probabilmente molto buio in scena per cui questo abisso marino di cui ho parlato prima questi relitti che emergono di volta in volta per quanto riguarda il nostro lavoro saranno i relitti diciamo umani dentro la sua memoria che lo accompagnano fino a sfociare diciamo nel testo scritto adesso vedremo cosa accadrà in scena perché lo stiamo facendo in questi giorni la sceneggiatura si chiude con un teatro con un soffitto sfondato e quindi in cui si vedono gli uccelli volare è un cielo meraviglioso per cui da questo da questo sprofondamento dentro il mare che è anche il nostro mare dell'interiorità si arriva alla musica perché Fellini insisteva moltissimo per questo è anche molto interessante che sia un'opera questo lavoro che questo protagonista fosse un musicista diceva che un musicista poteva capire bene questo lavoro sottile sull'anima che gli sembrava il più adatto insomma abbiamo anche dei documenti molto anche corposi c'è una lettera bellissima a Dino De Laurentiis appunto Fellini cercherà più volte di riprendere questo film quindi la musica insomma l'essere umano al centro di questo di questo grande viaggio la visionarità ovviamente di Fellini questo insomma sarebbe un colossal ma grazie in qualche modo alle parole stesse di Fellini noi possiamo farlo anche lavorando attraverso la sua immaginazione quindi sarà possibile in qualche modo entrare in questo mondo fantastico attraverso le parole di Fellini attraverso la bellissima musica di Matteo D'Amico mi taccio che dopo la passo ecco qua a questo punto la voce a Mastorna al baritono maestro Luca Grassi grazie tanto mi fa molto piacere interpretare questo ruolo qua vicino a casa mia un'opera ispirata a un lavoro di Fellini e quando abbiamo cominciato a parlarne quest'estate con maestro Nicastro ecco è stato così interessante capire come avrei potuto affrontare un'opera nuova scritta al giorno d'oggi così diversa rispetto al repertorio che faccio di solito e devo dire lo studio è stato abbastanza ostico però vorrei ringraziare il maestro D'Amico perché è molto coinvolgente cioè io sono entrato dentro questo personaggio e sento queste atmosfere che passano dallo scherzo dall'ironia feliniana a una drammaticità estrema a un veramente a un incubo ci sono certi momenti in cui questo personaggio non sa che cosa dire non sa come ribellarsi ad una situazione che lui ovviamente non accetta perciò ecco è un personaggio che veramente impegna a 360 gradi spero che riusciremo a portarlo nel migliore dei modi in scena voglio ringraziare tutti i miei colleghi sono bravissimi alcuni devono fare anche gli straordinari con quattro parti tra o quattro parti per uno e sono molto molto contento vi ringrazio grazie dopo passiamo alla presentazione anche di tutti i colori quali parteciperanno alla messa in scena dopo vi autopresenterete finiamo il giro poi dopo tocca a voi e chi ha avuto l'idea l'intuizione Cinzia Salviori Cinzia Salviori e Valeria Ottuoga no non si sente non si sente e soprattutto non si registra ecco così va bene dunque cercherò di essere breve ma bisogna fare un pochino di storia innanzitutto vorrei cominciare dicendo che questo spettacolo non si troverebbe alla vigilia della nascita se non fosse per colpa merito diciamo così di un signore che si chiamava Glauco Cosmi i riminesi che hanno più di 30 anni sanno benissimo chi è stato Glauco Cosmi per quelli che non lo sanno era un signore molto simpatico molto gentile un tipografo riminese che semplicemente era stato quello che nel dopoguerra aveva fondato ha avuto l'intuizione di fondare la sagra musicale malatestiana perché ne parlo perché e qui entro in un discorso un po' circolare che ha anche un piccolo dettaglio biografico nella prima metà degli anni 50 mio padre lavorava a Rimini e facevi rappresentante di macchine calcolatrice e macchine da scrivere quindi nulla di artistico e lavorando a Rimini è entrato in contatto con Glauco Cosmi diventarono amici e tramite Glauco Cosmi entrò in contatto almeno tangenzialmente con il gruppo dei vitelloni amici di Federico Fellini tra i quali Glauco Cosmi era uno dei principali e da quella volta mio padre diventa pur non essendo un cinefilo un fellinomane sfegatato io nasco nel 53 stesso anno dei vitelloni crescendo diventando ragazzo mio padre mi ha continuamente parlato mi accompagnava a vedere i film continuamente questo suo innamoramento nei confronti di Fellini a un certo punto lui leggendo non so cosa viene a sapere che Fellini stava lottando con questo film lo faccio non lo faccio lo faccio non lo faccio io era ancora adolescente liceale non aveva ancora deciso cosa avrei voluto fare da grande negli anni 70 avendo deciso cosa fare da grande mi trovo a lavorare per la sagra musicale malatestiana come collaboratore esterno parliamo della fine degli anni 70 a quell'epoca risale la mia amicizia con il vostro assessore Giampiero Piscaglia e conosco Glauco Cosmi che non avevo mai conosciuto diventiamo amici e Glauco Cosmi mi parla in maniera molto più come devo dire appassionata e documentata di questo famoso viaggio di Mastorna mi rimane lì nella memoria fino a quando nel 2017 nel 2016 quasi casualmente trovo la pubblicazione di cui Matteo D'Amico si riferiva cioè la versione narrata della sceneggiatura fatta da Ermanno Cavazzoni colpo di fulmine e soprattutto dico questo film è essenzialmente musica mi dico per la quantità di citazioni musicali che ci sono nella sceneggiatura di riferimenti musica nel testo musica fuori testo i primi due amici che cerco come complici sono Cinzia Salvioli senza la quale non saremo qui oggi perché la tenacia a cui faceva riferimento Matteo è stata soprattutto quella di Cinzia più che la mia e Matteo D'Amico vecchio collega vecchio amico al quale immediatamente la mia immaginazione è andata come compositore per quest'opera il resto è storia più o meno attuale e solo per dire però una cosa vi inviterei o inviterei tutti coloro che assisteranno allo spettacolo a leggere questo libro di Ermanno curato da Ermanno Cavazzoni che contiene la versione narrata della sceneggiatura per due ragioni primo perché è meraviglioso semplicemente questo contrasto di incubi sogni grottesco comico tragico profondissimo a Bissi cui faceva riferimento sia Matteo D'Amico sia Walter Malosti è all'ennesima potenza ma soprattutto perché in calce in fondo a questo libro c'è una lunghissima lettera pubblicata una lunghissima lettera che Federico Fellini scrive a Dino De Laurentiis per presentargli il progetto di sceneggiatura la lettura di questa lettera devo dire è stata quella che mi ha veramente non ho problemi a confessarlo commosso perché Fellini in questa lettera Dino De Laurentiis mette veramente a nudo tutto di se stesso il genio e le debolezze la fantasia e le fragilità per cui vi inviterei veramente a leggere si trova regolarmente in librerie edizioni Quodlibet e quant'altro niente di più se non appunto ringraziare tutti quanti dicendo una cosa Walter ha parlato di diritti dal 2017 per riuscire ad ottenere tramite la SIAE i diritti dagli eredi Fellini Masina Cinzia Di aveva impiegato due anni di calvario trattativa che è stata massacrante come difficoltà posso dirlo Cinzia è vero? Dopodiché una volta diventati titolari di questi diritti di adattamento in forma di teatro musicale diciamo così il contatto con Rimini che evidentemente non poteva altro che essere la sede naturale per la produzione di questo spettacolo ha richiesto ancora un annetto di lavoro dopodiché è arrivato il coronavirus e lo spettacolo che avremmo immaginato di mandare in scena nel 2020 va in scena il 23 di ottobre del 2021 grazie a tutti buongiorno grazie a tutti Castro direttore artistico del teatro a Righieri di Ravenna coproduttore insieme al teatro orari di questo spettacolo sì da tempo circolava questo progetto l'idea ne parlammo forse tre anni fa si cominciò a parlarne e naturalmente è un soggetto affascinante basta guardare il documentario in cui Fellini sulla scenografia incompiuta di questo aereo racconta col suo modo di raccontare già quello è un film di per sé un documento di straordinario valore artistico il fascino c'è stato fin da subito ma credere di poter realizzare un'opera devo dire all'inizio mi ha lasciato piuttosto scettico quindi ho accolto questa idea inizialmente con interesse sicuramente ma anche con una certa diffidenza pian piano ci siamo persuasi che forse si poteva fare grazie alla vostra tenacia sicuramente al fatto dell'insistenza anche con la quale il comune di Rimini e Giampiero Piscaglia hanno voluto fortemente omaggiare Fellini con questa opera in primis avevamo anche pensato di collocarlo all'interno della programmazione del festival per i riferimenti che in qualche modo esistono col tema dantesco in quest'anno di centenario vorrei ricordare le tante citazioni che avete inserito nel libretto nella musica e è anche questo un viaggio nell'aldilà certo alla Fellini in modo giocoso in modo onirico in modo ironico e scanzonato e alla fine di un anno di celebrazioni di dantesco direi che c'è anche bisogno di concludere questo anno di celebrazioni con un riferimento a Dante che sia più gioioso e direi che la musica è riuscita perfettamente nell'intento devo farti complimenti Matteo ti conosco e ti stimo da tanti anni dai tempi in cui era a Bologna facciamo assieme quel bellissimo Maria di Buenos Aires che resta veramente memorabile come progetto ma anche come compositore ti ho sempre apprezzato e devo dire che hai scritto un lavoro bellissimo a quattro mani poi con con Walter avete fatto una stesura di un libretto di grande effetto di grande efficacia stiamo già che siamo in prova da una settimana con i cantanti assaporando tutto lo spessore e la bellezza di questo lavoro che avete compiuto e che state portando a termine ecco io mi limiterei a parlare un attimo dei cantanti perché la scelta è toccata a me di individuare dei cantanti che potessero bene interpretare un'opera di questo impegno la difficoltà era trovare belle voci ma di musicisti non soltanto cantanti perché purtroppo questo soprattutto nel nostro paese è un ancora un tema scottante cioè ci sono tanti bravi cantanti dalle belle voci ma non tutti sono anche musicisti e quindi trovare voci di cantanti che fossero in grado anche di leggere una partitura complessa ritmicamente impegnativa portandola a memoria in palcoscenico non è da tutti non è da tutti la prima idea che mi è venuta è stata essendo qui a Rimini pensare ad un cantante professionista già affermato da una bellissima voce di baritono che è Luca Grassi che già avete conosciuto che si è presentato prima e poi affiancargli l'idea è stata quella di affiancargli dei giovani bravi e quindi un cast di sei cantanti in cui c'è il protagonista che è Mastorna che è un cantante già in carriera gli altri sono tutti parte di un coro che abbiamo costituito due anni fa a Ravenna e lo dico con grande ambizione e orgoglio e nel nostro paese cantare in coro o suonare in orchestra viene considerato un depreciamento delle qualità e delle ambizioni solistiche in realtà cantare in coro o suonare in orchestra fa parte di un completamento assolutamente indispensabile per un cantante e uno strumentista che siano musicisti perché suonare insieme avere la capacità di lavorare insieme non è molto di moda nel nostro paese non siamo molto capaci di fare squadra e non a caso non abbiamo non possiamo vantare le orchestre prestigiose che hanno tanti altri paesi proprio per questo difetto d'origine di mentalità noi abbiamo voluto un poco andare controcorrente inventandoci un coro di solisti di persone giovani che abbiano questa disponibilità a cantare in coro questa voglia di formarsi e di non fare soltanto di non ambire soltanto alla carriera solistica pur avendone tutte le qualità per poter fare anche come in questo caso attività come solisti ma col gusto di cantare in coro abbiamo potuto in questo modo realizzare opere che forse in Italia sarebbe stato difficile fare con qualsiasi tipo di coro abituato a fare soltanto il melodramma i nostri cori purtroppo sono specializzati nel melodramma se gli chiedi di fare un repertorio sinfonico o di andare su Schumann come è stato il nostro Faust che abbiamo appena fatto sono dolori questi ragazzi sono stati selezionati tre anni fa con un bando di concorso internazionale e adesso ve li presento abbiamo Eleonora Lue mezzo soprano italo-israeliana Vittoria Magnarello italianissima giovanissima che ha già una carriera anche come solista e che canta il nostro coro ecco l'ambizione del nostro coro è quello di avere dei cantanti che all'occorrenza possano fare appunto i solisti già li abbiamo utilizzati in altre opere nella Carmen e adesso abbiamo affidato loro tutti i ruoli di questa importante produzione Ken Watanabe Baritono il tenore Aslan Ufuk e poi di qua abbiamo la nostra hostess la Iulia Tanchenko oltre ai ruoli cantati ci sono due ruoli recitati abbiamo Marco Manchisi e Matteo Baiardi e una danzatrice anche lei del riminese che è Barbara Martinini quindi questo è il cast degli artisti che abbiamo selezionato dunque ho tenuto a specificare che questi sono ragazzi che vengono da una formazione di coro perché bisogna cominciare a riabilitare il mestiere dei cantanti e dei musicisti a tutto tondo si fa musica assieme sia solisti sia musicisti e loro lo dimostreranno per la qualità che sapranno dimostrare in scena grazie a tutti e ora se ci sono domande questo è il microfono non ci sono richieste particolari domande tutto chiaro siamo stati saurienti siamo stati bravissimi mi sa che tutto quanto abbiamo soprattutto il direttore di castro una memoria formidabile si è ricordato tutto tutti i nomi tutti i ruoli perfetto per cui Anna scusate allora prima della domanda una citazione merita il nostro maestro al pianoforte Alessandro Benigni l'applauso convinto l'ho sentito dai cantanti perché per una settimana ha lavorato intensamente per prepararli accanto a lui c'è Clelia Noviello ecco vedi non ricordo tutti i nomi dovevo far vedere che non sono problema Clelia Noviello in rappresentanza di Jacopo Rivani che non c'è perché è impegnato in un'altra produzione loro hanno assistito davvero in modo egregio i nostri cantanti nella preparazione quindi grazie grazie Anna Gagliari grazie no solo intanto solo una richiesta di precisazione perché non ho capito bene l'aspetto dell'inserimento della voce di Fellini in che senso è presente e narra in prima persona le parti di sceneggiatura sono tutti i raccordi tra una scena e l'altra a volte sono anche pensieri che lui la voce autentica presa da no pensavo avreste preso che so non esiste la registrazione di Fellini purtroppo se no magari l'avremmo anche usato sarebbe interessante c'è una voce narrante sì sì è una voce narrante che è anche quella di Fellini nel senso che porta avanti la storia ogni tanto anche prende spunto anche da questa lettera che Valerio Tura nominava prima quindi è una voce in prima persona quella dell'Aurentis tra l'altro nonostante tutti questi apporti insomma anche che esici molti insomma si sente una voce autentica di Fellini dentro questa sceneggiatura cioè pare che sia quella che ha fatto più da solo di tutte le altre sceneggiature che ci ha continuamente rilavorato quindi insomma in cui racconta appunto come vorrebbe fare il film poi però dentro ci mette anche i suoi dubbi dice questo finale non so bene come farlo ma sicuramente ho pensato a queste invece sono sempre idee bellissime meravigliose tutto tutto l'altra cosa è una curiosità visto che del viaggio di Mastorno poi in realtà c'è stata la trasposizione in fumetto se c'è stato oltre a chiaramente invece le immagini nel block notice di un regista e se c'è stato un attingere anche a quell'immaginario lì che comunque dovremmo dovremmo usarle adesso credo che abbiamo preso chiedo sì abbiamo preso i diritti quindi possiamo dirlo useremo anche le immagini di Manara lì vabbè c'è anche lì questa storia curiosissima che sapete tutti con la parola fine per cui a proposito di questa versione fumettistica fatta da Milo Manara alcuni diciamo i cinefili e i fellinologi sanno questa cosa che sto per dire mai più no la cosa andò così Milo Manara chiese a Fellini ancora vivente la possibilità di tradurre la sceneggiatura in una graphic novel Fellini manda a Manara una serie di schizzi di disegni diciamo quasi già uno storyboard diciamo così rispetto a questa cosa Manara pubblica il primo capitolo malauguratamente per lui inavvertitamente in calce al primo capitolo che pubblica scrive la parola fine Fellini vede questa parola fine chiami immediatamente Manara e dice fermati lì non fare più niente questa cosa ce l'ha raccontata Ermanno Cavazzoni che come sapete ha collaborato attivamente con Fellini nei suoi ultimi anni di vita e ha un'origine precisa si sa che Fellini oltre ad essere un grande bugiardo era anche fortissimamente superstizioso e lui stesso ha messo in giro diciamo così la leggenda peraltro confermata da un'intervista a Pierluigi Pizzi che troverete nel programma di sala sulla base della quale la vera profonda motivazione per cui rinuncia a fare a girare il film è che un veggente di cui lui si fidava moltissimo il famoso mago Roll di Torino al quale lui andò a chiedere in qualche modo autorizzazione a fare questo film gli disse non farlo perché il giorno dopo che avrei finito di scattare l'ultimo Chuck morirai quindi quando Fellini vede la parola fine in calce alla grafica al primo capitolo al graphic novel di Milo Manara evidentemente tocca tutto quello che gli viene in mente di toccare e chiama Manara e dice fermati lì ecco questo solo per dire che è una specie di aborto questo primo capitolo che Milo Manara ha fatto l'ho raccontata bene Marco? benissimo perfetto a pieni voti promosso a pieni voti sì averemo una tavola inedita che non è stata mai vista di Manara sì sì a questo punto se non ci sono altre domande come si dice dichiariamo chiusa la conferenza stampa ci vediamo tutti il 23 sabato 23 e vi inviterei invece voi e anche gli interpreti fuori per fare una foto tutti insieme senza mascherina d'accordo? grazie 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 grazie